tieni sono le 6 del pomeriggio è appena smesso di piovere e ne approfittiamo per fare un bellissimo tour e portarvi con noi in uno dei posti più belli della toscana su questa strada troviamo almeno tre punti diversissimi l'uno dall'altro dove fare delle foto strepitose per instagram vengono qui da tutto il mondo per fotografare questa campagna toscana credo che siamo arrivati al primo punto è il casello abbandonato andiamo dentro questa ferrovia che abbiamo visto che è piena di papaveri ed è una meraviglia qua c'è da scattare un bel po di foto alcune sono molto belle io mi sono divertita e mi sono anche sdraiata fai qualcosa casomai te lo dico è sempre affascinante il binario abbandonato l'abbiamo trovato ad hoc sarebbe bello se arrivasse un treno fantasma ci porta via e poco più avanti troviamo un punto panoramico strepitoso dove fare foto bellissimo e da dove si vede il castello gallico e poi se avete un drone qua vi divertite tantissimo e 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 questo era il secondo punto panoramico c'è un silenzio meraviglioso e si sente lontano un chilometro si sentiva il pastore che parlava e adesso riproseguiamo la marcia un chilometro e vedrete pronta prontissima allora siamo arrivati nel punto più famoso in assoluto se non altro erano per quelli per i stranieri infatti abbiamo trovato i fotografi piazzati pronti l'ora del tramonto è stupendo e andiamo a vedere si vede che qui passa un sacco di gente soprattutto fotografi hanno fatto il viale e andiamo su di là si no? no? si probabilmente c'è qualcun altro con il drone ecco qua siamo ormai nella fase X l'ora X l'ora del tramonto guardate già i colori delle nuvole è fantastico qua tutti i giorni tutta la settimana c'è gente a farle fatte anche e abbiamo oggi sei? è troppo bello sembra di essere dentro un quadro non 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 la non non il Grazie a tutti. Mi sto dicendo allora piaciuto mi hai preceduto tantissimo tantissimo è stata proprio una bella giornata anzi serata perché siamo partiti tardi ci siamo goduti il tramonto e ora possiamo tornare a casa ora torniamo a casa ma io credo che qua torneremo spesso perché ho trovato un fotografo mi ha detto ma tu stai qua e non sei mai venuto vergogna vergogna è un po grave in effetti torneremo e ora ci divertiremo a fare tante cose perché qua è stupendo ma l'avete visto allora iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo ciao ciao Grazie a tutti.